In questo video ci occupiamo di capire quando un sistema omogeneo ammette altre soluzioni oltre a quella banale, ossia oltre al vettore nullo. Ricordiamo che un sistema omogeneo ammette soluzioni diverse da quella banale quando il determinante della matrice associata è uguale a zero. Prendiamo, per esempio, questo esercizio. Scriviamo la matrice associata m uguale, sappiamo che m è la matrice sulle cui righe corrispondono i coefficienti delle variabili, quindi abbiamo 6 e meno 3 per la prima riga, 4k sulla seconda riga. Calcoliamo il determinante di m. Determinante di m uguale a 6k meno meno 3 per 4. Otteniamo che il determinante di m è uguale a 6k più 12. Andiamo quindi a stabilire quando il determinante di m si annulla, ovvero troviamo il valore di k che annulla il determinante. Siccome si tratta di un'equazione di primo grado in k, questo corrisponde a risolvere l'equazione 6k più 12 uguale a zero. Facciamo i calcoli e otteniamo che il determinante della matrice m si annulla per k uguale a meno 2. Quindi concludiamo che per k uguale a meno 2 il sistema ammette infinite soluzioni, mentre per k diverso da meno 2 il sistema ammette solo la soluzione banale. consideriamo adesso un altro esempio. Consideriamo questo sistema omogeneo di tre equazioni in tre incognite, quindi la matrice dei coefficienti m sarà una matrice 3 per 3. La prima riga conterrà gli elementi 1, 1, k meno 1, la seconda riga 3, 0, k e la terza riga 2, meno 2, 1. Calcoliamo adesso il determinante di m rispetto alla prima riga. Come prima, calcolato il determinante di e della matrice m, lo poniamo uguale a zero per trovare i valori di k per i quali il sistema ammette altre soluzioni oltre a quella banale. Quindi poniamo meno 2k più 3 uguale a zero. Questa equazione di primo grado in k ha soluzione per k uguale a tre mezzi. E quindi concludiamo che quando k è uguale a tre mezzi il sistema ammette infinite soluzioni. Quando k è diverso da tre mezzi il sistema ammette una sola soluzione che è la soluzione banale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.